La Polizia di Stato di Enna durante la settimana dal 19 al 23 agosto ha svolto operazioni di controllo nel comune di Enna per prevenire e contrastare la criminalità mafiosa. L'operazione condotta in collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza ha rafforzato la presenza delle istituzioni sul territorio per promuovere la legalità. Sono stati controllati 72 veicoli e 98 persone, elevate 17 sanzioni per infrazioni al codice della strada con un sequestro amministrativo e spezionati due esercizi commerciali. Inoltre la Questura ha effettuato un ulteriore controllo commerciale identificando 8 persone.